Un vero e proprio tugurio, ricettacolo di attività clandestina di ogni genere, utilizzato come bivacco che fa mostra di sé dall'altra parte del marciapiede rispetto ai frequentatissimi stabilimenti della riviera. Una ferita non ricucita da anni, nonostante i numerosi blitz delle forze dell'ordine documentati anche dalle nostre telecamere. Una volta sgomberato, l'edificio in disuso viene sistematicamente rioccupato. L'Exenaip sulla riviera nord di Pescara, assieme a quelle di degrado sociale e igienico, comporta anche problematiche legate alla sicurezza e alla incolumità, non soltanto di chi vive all'interno di quelle mura. Proprio in prospicenza dell'edificio, del resto, è stato ricavato un parcheggio estivo. Una piccola bomba sociale nel cuore della città, per disinnescare la quale la Giunta Masce ha predisposto una delibera che domani andrà all'esame del Consiglio Comunale. La spesa prevista è di 430 mila euro, si partirà subito con risorse proprie del Comune, rimodulate da altri capitoli di spesa. Un dossier su cui si è messo subito al lavoro l'assessore Luigi Albore Mascia. Si parte senza alcun finanziamento, accordo con i privati, in un'area che sarebbe anche particolarmente appetibile, che in futuro potrebbe essere oggetto di negoziazione per l'ampliamento del Parco Nord, come pure tentò in vano la Giunta Alessandrini. Ma al momento il cronoprogramma è il seguente, lavori di demolizione ad ottobre e, dalla prossima estate, nuovi 200 parcheggi pubblici per la spiaggia.